Nuove strategie integrate di sviluppo culturale, economico e sociale per la rigenerazione dei centri maggiormente colpiti dal terremoto 2016. Questo è il focus dell'incontro svoltosi nella sede del Maxi all'Aquila con gli amministratori locali dei comuni del cratere abruzzese Sisma 2009-2016. Sì, noi dobbiamo curare prioritariamente, come sono solito ricordare, la ricompaginazione e la riqualificazione del patrimonio edilizio, ma nel frattempo dobbiamo anche riparare le nostre comunità da quelli che sono stati gli effetti del terremoto e anche di tante situazioni che prima del terremoto già affliggevano i nostri borghi, specie quelli dell'entroterra, che soffrivano di spopolamento già da tanto tempo. Ecco, l'accordo col Maxi vuol dire assegnare a questa primaria istituzione nazionale il compito di creare un ambiente, una relazione, un legame fra tutti i comuni del terremoto in maniera tale che la cultura possa avere la funzione di raggiungere due obiettivi. Il primo è quello di ridare forza alle nostre identità che sono state momentaneamente fiaccate dal terremoto. Dall'altro quello di presentare tutto ciò che noi facciamo all'interno del cratere al mondo, all'Europa, perché noi sappiamo che l'arte contemporanea, che è un po' il tranto distintivo del Maxi, è anche l'arte che favorisce genere, attenzione soprattutto per quanto riguarda i più giovani e i giovanissimi. Ecco, anche questa iniezione di gioventù, di attenzione su argomenti che sono universali, come quelli dell'arte contemporanea, può essere un elemento che aggiunto agli altri, ovviamente che non vanno dimenticati, può concorrere a garantire quella riparazione di cui abbiamo bisogno. Perché questa questione dei territori del cratere non è solo una questione abruzzese, laziale, marchigiana, umbra, è una questione nazionale e da questione nazionale la stiamo trattando. Un'offerta che il Maxi ha arricchito in ragione di una politica di dialogo con il Comune dell'Aqui e il suo territorio, rappresentato dalla struttura commissariale. Un modello di crescita e complementarietà tra enti e istituzioni culturali a beneficio di tutto il cratere. È la nostra vocazione e lo è stato fin da quando è nato il Maxi dell'Aquila, che oggi diventa qualcosa di più. L'abbiamo definita la centrale operativa di un progetto di ritessitura culturale e civica all'interno del cratere e in dialogo con il territorio e con i sindaci di tutti i paesi interessati dai terremoti 2009-2016. È costruire all'interno del più ampio processo di ricostruzione dei territori del centro Italia una capacità di attuare una strategia che passi anche attraverso la cultura. Il nostro territorio è ricchissimo di istituzioni culturali, da quelle più blasonate a quelle di base, che esprimono quotidianamente una fecondità inimmaginabile. Si tratta di riuscire a metterle insieme, di sostenerle attraverso dei piani specifici, come facciamo noi nel cratere 2009, attraverso le risorse di restart e si tratta di recuperare queste identità che messe tutte insieme rappresentano un elemento che sicuramente può caratterizzare la rinascita di questi territori. C'è chi è più avanti, chi è un po' più indietro, ma questo non ci scoraggia. L'importante è aver ben chiaro la direzione verso cui vogliamo andare.